Continua con grande successo il progetto Autoresponsabilità, promosso dal Piano Sociale di Zona Ambito S4 e cofinanziato dall'Assessorato ai Trasporti della provincia di Salerno. Il progetto si avvale della collaborazione del Comando dei Carabinieri della stazione di Sala Consilina e dell'Associazione La Stanza di Gio, oltre al coinvolgimento di 14 istituti di scuola secondaria di secondo grado, ricadenti nel territorio di riferimento del progetto. Dopo la prima tappa presso l'Istituto Tecnico Commerciale Lipsar di Sant'Arsenio, il progetto Autoresponsabilità è approdato oggi presso Litis Gatta e presso l'Istituto Industriale di Sala Consilina. Un progetto che ha come nobile fine quello di informare e sensibilizzare sul tema della prevenzione e della sicurezza sulle strade. Dopo una prima fase di incontri informativi, gli studenti avranno la concreta possibilità di svolgere prove pratiche di guida mediante l'utilizzo di simulatori dotati di un particolare software che permette di simulare una vera e propria esperienza di guida. Gli studenti che raggiungono i migliori risultati riceveranno un premio di merito, ovvero la possibilità di frequentare gratuitamente un corso di avviamento alla guida. Il progetto si concluderà presso gli istituti salesi il 27 febbraio, per poi approdare presso il liceo scientifico Carlo Pisacani di Padula dal 2 al 13 marzo.